Nel 1999 l'ONU dichiarò la giornata del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In questa occasione abbiamo pensato di realizzare questi cartelli, queste schede biografiche che riguardano la vita di donne importantissime nel loro campo, per scoperte importantissime per l'umanità, ma che voi non troverete nei libri di scuola, non troverete nessun uomo che citi queste donne. Queste donne sono frutto di un meticciato, come ha detto Emma Baeri, un meticciato di epoche, di nazioni e anche di campi del sapere. Troverete matematiche, fisiche, pensatrici, sociologhe, troverete anche donne che non hanno una caratteristica, ci sono le suffragiste. C'è un campo che ancora verrà ampliato di donne famose, importanti per l'umanità, importanti perché le loro scoperte, i campi in cui si sono mossi sono stati ampliati notevolmente dal loro pensiero e che gli uomini e che nelle scuole non si conoscono. Questo è il tentativo nostro per dare luce a queste donne che lo meritano, non è un premio, è il merito che va dato a queste donne per quello che hanno loro fatto nelle loro epoche, nei loro campi, nei loro paesi.